Senta, ci dici come è nata questa iniziativa di coinvolgere le istituzioni per incontrare una realtà come Pistoia? Beh, è nata dall'idea che Pistoia è per questo periodo ambasciatrice del basket toscano in Serie A, perché l'unica squadra purtroppo è rimasta. La passione che noi tutti riversiamo per questo sport e per l'importanza che sta assumendo in città è grandissima. Nel Presidente Gianni abbiamo trovato un appassionato di sport come forse un'istituzione in un ruolo di presidenza così importante non ha mai avuto e quindi è stato facile, bello e piacevole per tutti organizzare questa occasione per riconoscere e dare un riconoscimento ufficiale e anche un'accoglienza dovuta a una squadra che vuole dire tanto per una città che ha tanto bisogno di stimoli, tanto bisogno di interessi, tanto bisogno di aggregazione e sta trovando in questa compagine uno spazio d'eccellenza. Oggi si accoglie Pistoia, credo che la volontà però a livello politico istituzionale è quella di migliorare tutto il tessuto della pallacanestro in Toscana? Non c'è dubbio, in Toscana c'è una grande tradizione che riguarda massimamente almeno tre province, Pistoia sia nel Livorno ma che invece può anche una capilarità su altre aree. Il basket, che io anche se non si vede ho praticato per tanti anni, è uno sport che per i ragazzi è fantastico perché insegna sia il rispetto e il senso del limite ma anche l'importanza del contatto, di essere vicino al tuo avversario, di doverlo rispettare essendoci a contatto senza nessuna rete che ti separa. Vedo che i ragazzi che escono da un percorso cestistico ce ne escono con una formazione, non me ne vogliono gli altri sporti, il mio preferito è questo, di sicuro, un po' diversa anche da un punto di vista umano rispetto a quella che possono dare altri sport e quindi credo che si debba fare tanto per supportare questa attività dal punto di vista della promozione ma poi anche dal punto di vista delle strutture e della possibilità di praticarlo al meglio e nelle condizioni migliori.